La significa raggiungere uno dei tanti miei obiettivi che mi ero prefissato, di arrivare in città dove il pubblico sicuramente arriva prima il mio messaggio, arriva prima la mia cucina e poi appunto qualcosa di più grande. Milano ora è la capitale gastronomica italiana, al prossimo anno c'è l'Expo, quindi per me è una grandissima sfida. Qual è la cucina che vuoi fare? La cucina hanno tantissime proposte diverse da quello che ho sempre fatto, cerco di fare sempre quello che ho fatto anche all'Alper Royal, unendo i prodotti del mare a quelli della montagna o anche a quelli comuni della città, cercando di mantenere sempre la stagionalità e il rispetto delle materie prime, tutto qua. E qui a Malcesi ne ha un fisse, c'è il fattore del pesce di lago? Sicuramente no, perché per me il pesce di lago, anche se ci sono alcuni elementi che sono validi, però non mi entra ancora nella mia mentalità. Cercherò di proporlo, magari posso fare anche un piatto che ho fatto qui stasera dedicandolo appunto a Malcesi e a questa manifestazione che mi hanno ospitato, ma lo vedo sicuramente.